Buongiorno a tutti, se appena... Scusate che c'è un ritorno... Abbiate pazienza... Un attimo, abbiamo problemi... Tecnici... Giuseppe Conte... Buongiorno a tutti, se appena... Scusate che... C'è un ritorno... Abbiate pazienza... Vai in giro a fare il galletto... Su tutte le televisioni... Il fazzolettino... Il naso aquilino... Se saremo tutti... A rispettare queste regole... Usciremo più in fretta... Da questa emergenza... Il paese... Ha bisogno della responsabilità... Di ciascuno di noi... Della responsabilità... Di 60 milioni di italiani... Che quotidianamente compiono... Piccoli... Grandi sacrifici... Una comunità di individui... Come direbbe Norbert Elias... Rimaniamo distanti oggi... Per abbracciarci con più calore... Per correre più veloci domani... Che veloci domani... Che veloci domani... Oh my Piccoli... Batecto... Deccoli... Che veloci domani... Che veloci domani... Tomani... Che veloci domani... Qu attempting... Come 빨ばい sol... Tutti insieme già faremo.